Dobbiamo relazionarci con il nostro territorio, la nostra provincia sannita. In questi giorni sta partendo il distretto del Cibo con tre caratteristiche, vite vinicolo, olivicoltura e ortofrutta. Quello del vino è un argomento che l'anno scorso è venuto alla ribalta, con Sannio, Falanchine, Città Europea del Vino, e quindi l'Unisannio ha cercato un po' di agganciarsi a questo discorso. Un master di secondo livello, della durata di un anno, massimo partecipante di 20 persone, per cercare di formare delle persone che possono, in termini di marketing, in termini di contratto a liste di imprese, essere più pronte per un mondo digitale, un mondo ovviamente che va verso l'export in maniera massiccia. Basta pensare che l'export nel settore dei vini è aumentato in modo importante negli ultimi anni. La produzione dei vini del mezzogiorno è passata da una produzione nazionale del 36% al 50% del 2019, in termini di qualità dei vini il 10%, e quindi dobbiamo fare un discorso di territorialità. Proprio ieri sul giornale La Repubblica c'era uno studio promosso da Intesa San Paolo, dove viene fuori che l'agroalimentare di Avellino, quello della pianura del Sele, della mozzarella dei Bufoli, primo trimestre 2020 hanno dato un più 10, un più 15, un più 20%. Cerchiamo anche noi di buttarci su questo tema del vino, e sono convinto che queste persone specializzate nel settore del vino potremmo dare un forte aiuto alle imprese, anche alle aziende e società di capitali, anche al mondo cooperativistico. Voglio dire che è un argomento in trend con quello che è stata anche la laurea professionalizzante presentata pochi giorni fa nel settore dolciario, quindi alla provincia di Benavento.